Come siamo influenzati e manipolati dai social? In questo video voglio spiegarti come siamo influenzati e manipolati dai social, come i social manipolano la nostra vita, come i social ci rovinano, diciamo, in qualche caso, comunque come condizionano la nostra esistenza, perché dobbiamo imparare a difenderci anche dalla manipolazione, tra virgolette, dei social. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo al tema, come difendersi, diciamo, dalla manipolazione dei social. Perché è comunque importante imparare a difendersi dalla manipolazione dei social. Allora, spesso succede che abbiamo la necessità di instaurare rapporti e relazioni. Una vita sociale è un bisogno fondamentale, quindi questo è sempre, diciamo, è sempre stata una, un qualcosa di reale, un qualcosa che si è sviluppato, si è sviluppato costantemente. Quindi diciamo che con il concetto di influenza sociale poi è la pressione che fa la società nei confronti di una persona, portandola a cambiare i propri processi mentali, i propri comportamenti, le proprie idee. La pressione sociale, ad esempio, è quella che magari fa sposare delle persone che non sarebbero volute sposare, no? E oggi però questa pressione sociale è cambiata. Non è più soltanto appunto legata a delle situazioni di tipo, non è più collegata a delle situazioni di tipo generale, cioè di tipo diretto, ma col mondo dei social la pressione è di tipo indiretto, perché in realtà non c'è qualcuno che ti dice qualcosa, come tua madre che ti dice devi sposarti, devi trovare un marito, devi trovare una situazione, non c'è più questo, ma c'è, diciamo, una parte esterna che è praticamente il messaggio avviene in modo indiretto, quindi sei tu che te lo vai a cercare direttamente nei social, diciamo, fondamentalmente è una fonte passiva, no? Perché il social non è che entra a casa tua, ma sei tu che vai sul social e ti auto manipoli, cioè nel senso che vai a vedere dei modelli, il social, ad esempio, l'influencer o il social influencer, il social in generale, comunque promuovono dei modelli che possono essere dei modelli di successo. E beh, diciamo che adesso è semplicemente più ramificato, una volta era magari la televisione, no? Per cui la ragazza che vedeva il modello, la ragazza magrissima in televisione, magari cercava di emularla. È un po' il principio dell'emulazione, no? Che l'essere umano ha, vedi qualcuno che viene proposto come un modello di successo, con un modello di persona in grado di... che ti piace, che piace agli altri, e quindi noi per il bisogno che abbiamo di essere riconosciuti dagli altri, siamo anche disposti a modificare, cambiare i nostri comportamenti, cioè a cambiare i nostri comportamenti in conformità con questo modello proposto. Oggi la cosa è diventata semplicemente molto più capillare, i principi sono esattamente gli stessi, ma la tecnologia è quindi più diffusa, perché i social ormai sono diffusi, diciamo, dal bambino al nonno, diciamo, no? Quindi sono diffusi e quindi pervadono, entran dentro le nostre vite rappresentando dei modelli, rappresentando... e quindi spesso si crea questo meccanismo di identificazione, no? Per cui ti identifichi con un modello e cerchi di emularlo, quindi se lui compra un certo paio di scarpe, tenderai a comprare quel paio di scarpe lì. Ovviamente si tendono proprio a interiorizzare, no? Determinati valori anche. I modelli nei social, gli influencer propongono dei valori, e questi valori condizionano comunque, in qualche modo, la nostra vita, la condizionano anche talvolta pesantemente, no? Quindi noi dobbiamo imparare a uscire fuori, no? Perché generano una deformazione percettiva, ti fanno vedere cose che non ci sono, una deformazione sul giudizio, esprimi un giudizio diverso da quello che avresti voluto esprimere, e senti il bisogno di cambiare in conformità con il modello proposto. Ovviamente, diciamo, vi sono dei modelli che danno maggior influenza e modelli che danno minore influenza. Ad esempio, i modelli di autorità sociale possono influenzare, ma anche i modelli di, come dire, di successo. Quindi, ovviamente, perché le aziende si rivolgono all'influencer? Perché gli influencer, in qualche modo, ti influenzano, appunto, presentando, di fatto, un modello. E questo è quello che succede. Bisogna rendersene conto. Cioè, anche qua, bisogna rendersi conto e andare a valorizzare noi stessi, piuttosto che andare a valorizzare un modello che, invece, potrebbe essere veramente qualcosa di negativo, di nefasto per noi. Quindi cerchiamo di rendercene conto. La vera forma per superare queste situazioni è rendersene conto. E questo non c'è altra possibilità. Quindi, va bene stare sui social, occhio alle forme di manipolazioni subdole, talvolta nascoste. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra diversi tipi di abbonamento, abbonamenti per dare un sostegno al canale, ma anche l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!